Continuate perché non ci dispiace. Grazie, assolviamo subito una graziosa promessa, un grazioso desiderio espresso da tutti noi, quello cioè di consegnare il premio segreti d'autore 2014 a Tony Servillo, il premio è un'opera del maestro Mimmo Paladino. Grazie, grazie al maestro Paladino, come molti sapranno è uno dei massimi artisti del nostro mondo dell'arte contemporanea, le sue opere sono esposte appunto al Museo d'Arte Contemporanea di New York. È un ripiano dove sopra c'è appoggiata una tazzina di caffè e un oggetto che non saprei altro come definire in inglese coppetiello che si usava sulle antiche caffettiere napoletane. Questo naturalmente è un omaggio di Paladino personalizzato per Servillo rispetto all'amore che Tony ha per Edoardo. Edoardo O sole se ne va, o sole se ne va, o sole se ne va, domani torna. Se ne va, o sole 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 non torna un più. Sì, 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 sì,